ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale come sempre siamo qui pronti e carichi per tenervi costantemente aggiornati per quanto riguarda i combat sport e soprattutto le arti marziali miste partiamo subito con la UFC si è svolto lo scorso fine settimana l'evento UFC 268 al Madison Square Garden a New York evento che aveva come match di cartello il main event per il titolo dei pesi welter tra il campione The Nigerian Nightmare Kamaru Usman e il contendente numero uno Colby Covington e il co-main event per il titolo dei pesi paglia femminili tra la campionessa Tag Rosna Mayunas Magnum Zhang Veili ma andiamo ora a elencare in dettaglio tutti i risultati dei match della main card a partire da un altro attesissimo incontro dei pesi leggeri tra Justin Gaethje e Michael Chandler gran match concluso con la vittoria di Gaethje per decisioni unanime nel secondo match categoria pesi piuma Shane Burgos si impone per decisioni unanime su Billy Carantiglio nel match dei pesi gallo tra il veterano Frankie Edgar e Marlon Vera e l'equadoriano a vincere per TKO nel co-main event Tag Rose difende il titolo dei pesi paglia imponendosi per split decision su Zhang Veili e nel main event della serata Kamaru Usman si riconferma campione indiscusso dei pesi welter battendo per decisioni unanime un Colby Covington ben preparato che nonostante tutto ha disputato un gran match e ne esce a testa alta vendendo cara la pelle Kamaru Usman si avvia sempre di più verso un totale dominio incontrastato e che vada come vada ha ormai fatto storia. Passiamo ora a Bellator e parliamo dell'evento Bellator 270 svolto come UFC 268 lo scorso fine settimana alla Tri Arena di Dublino e ora di seguito i risultati dei quattro match della main card. Per la categoria pesi piuma Ilias Bulides configge George Sasu per split decision nel secondo match sempre pesi piuma Pedro Carvaglio batte Daniel Vicle per decisioni unanime. Nel co-main event per la categoria catchweight 137,8 libre Paci Mix sconfigge James Gallagher per sottomissione al terzo round e nel main event per il titolo vacante dei pesi leggeri il rematch tra Patricky Pitbull e Peter Quigli vinto stavolta da Pitbull per TKO al secondo round. Sottolineiamo due risultati della prelimina ricard del medesimo evento ergo le due vittorie dei due fighter italiani Niccolò Solli e Scat Daniele Scatizzi. Il primo categoria pesi welter sconfigge Bobby Pallet per split decision e Scat categoria pesi leggeri batte Brian Hoy per decisioni unanime. Congratulazioni a entrambi da parte nostra. Chiudiamo con la box. Canelo Alvarez sconfigge Caleb Plant per KO all'undicesimo round strappando la cintura IBF dell'avversario aggiungendola alle sue WBC, WBO e WBA detenendo ora tutte e quattro le cinture in una classe di peso. I super medi per la prima volta nella sua carriera. Match spettacolare tra i due. Avvenuto sabato 6 novembre alla MGM Grand Arena di Las Vegas che proietta ulteriormente in alto il pugile messicano come campione indiscusso e numero uno pound for pound al mondo. E anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale. Continuate sempre a seguirci per rimanere aggiornati da Ale, Jomie e Fight, The Shield of Wrestling. Un grosso abbraccio, grazie per la cortesa attenzione e alla prossima. Ciao! Ciao e buona domenica a tutti dal vostro Mirco Orlato che per fight.theshieldofwrestling.com inizierà questo racconto di questo weekend degli sport da combattimento partendo dal racconto di UFC 268. UFC 268 si è tenuto al Madison Square Garden di New York e in una cornice di pubblico e un'atmosfera pazzesca abbiamo assistito a un evento molto molto bello caratterizzato sin dalla preliminari da due vittorie molto importanti e aspettate anche da un punto di vista mediatico e quindi mi riferisco a Pereira definito la kryptonite nella kickboxing di Israele Adesania che ha debutato in UFC con una vittoria al secondo round contro Michael Idis. Debutto con vittoria anche per il protégé di Conor McGregor, Gary, peso welter ex campione di Cage Warriors che si è imposto contro Williams per KO facendo anche una famosa citazione di McGregor nel post match partendo invece con la main card la main card è partita con il botto perché per consentire a Trevor Whitman di riuscire a gestire bene i tre atleti che erano impegnati nella main card il match tra Justin Gaethje e Michael Chandler è stato anticipato come primo match quindi match che inaugura la main card penso francamente ragazzi che abbiamo assistito a uno tra i migliori match degli ultimi tempi nella storia recente della UFC. Il match di Oscar Gardner l'anno scorso era già stato teatro di un massacro quello anzi ben due anni fa UFC 244 quando Masvidal sconfisse Diaz e vinse la BMF belt. Quello fu un match violento il match tra Gaethje e Chandler si è tenuto in tre round ha visto la vittoria di Justin Gaethje per decisione unanime con due round 29-28 e addirittura un terzo round che non mi trovo d'accordo 30-27. Che match è stato? È stato un match dove la pretattica è andata bellamente a farsi fottere. I due hanno cominciato subito a scambiare selvaggiamente. Miglior inizio di match per Chandler. Chandler atleticamente come al solito esplosivo ha cercato molto il leg kick colpiva e rientrava cercando di andare a bucare la guardia di Gaethje e accorciando le distanze. La svolta è avvenuta nel secondo round quando Gaethje con un poteroso montante ha messo giù Chandler. Dopo un primo round equilibrato questo colpo, questo knockdown ha spostato l'ago della Biancia in favore di Highlights. Chandler stoico è riuscito a resistere nel terzo round. Ha continuato, nonostante il volto fosse una maschera di sangue, ad attaccare. Ci ha messo il cuore, è stato straordinario. Ha invitato con la guardia bassa Gaethje che non è propriamente una persona non dotata di un KO power, chiedere a Ferguson. Gaethje ha attaccato, ha attaccato ma non è riuscito a finalizzare Chandler, che è riuscito quindi ad arrivare fino al terzo round, ma l'impegno purtroppo non è stato sufficiente per portare a casa la vittoria. Gaethje quindi torna la vittoria e chiede quindi la title shot a seguito di UFC 269, dove si scontreranno il campione Charles Oliveira contro Dustin Poirier. La main card ha poi vissuto di due match valevoli per i pesi gallo e per i pesi piuma. Il match tra Frankie Edgar e Marlon Vera si è concluso con una vittoria di quest'ultimo per KO al terzo round, con l'equadoriano che ha colpito con un front kick di Anderson Silva a memoria, se si può dire così. Frankie Edgar, Frankie Edgar che è stato sconfitto per KO, è il secondo KO di fila, il secondo in tre match nel pesi gallo. Inutile dire che il tempo per Edgar Pass è arrivato a 40 anni, due sconfitte pesanti che lo vanno a destromettere da quelle che potevano essere le ambizioni titolate di The Answer, che si trova tra l'altro in una categoria che si trova in un momento storico di massima competitività. Il match è stato non particolarmente godibile, Edgar ha cercato di tenere il match per terra facendo molte fasi di transizione, cercando di improntare il match su ground game. Quando il match si è spostato in piedi e si è sviluppato in piedi, Edgar ha fatto fatica a contere il ritmo di Marlon Vera, che comunque resta un fighter che non è mai stato finalizzato e che non è particolarmente famoso per avere quel KO devastante. Eppure Vera è riuscito nell'impresa di mandare KO a Edgar, vittoria per Marlon Vera che adesso probabilmente chiederà un nome ancora più quotato. Ricordiamo che Vera occupa la parte bassa della top 15 dei pesigallo. E' stato invece grandissimo spettacolo quello che c'è stato nella categoria dei pesi più ma tra Shein Burgos e Quarantiglio, Billy Quarantiglio, soprannominato Billy Q. E' stata una vittoria per decisione unanime di Shein Burgos, che quindi ha allontanato Billy Guarantiglio da una possibile vittoria che gli avrebbe consentito l'entrata nella top 15. E' stato un match molto molto bello che è entrato nella storia della categoria dei pesi più ma quale match con il maggior numero di colpi significativi. Match, ricordiamo e precisiamo, per non urtare la sensibilità di Max Holloway, match che si è sviluppato sui tre round. Ci sono stati uno scambio di 371 colpi complessivi. E' stato un match che ha visto una vittoria tutto sommato meritata da parte di Burgos. Probabilmente Quarantiglio, nella seconda ripresa, ha sofferto un'infortunio alla gamba, che è andato quindi a rallentarne il footwork e quindi a limitarlo, mentre invece Burgos dal secondo in poi ha accelerato e ha portato a casa la vittoria. Adesso probabilmente anche nel suo caso ci sarà un nome all'interno della top 10. Arriviamo ora a quelli che erano i due match titolati come in event e me in event. Partendo da come in event c'era la rivincita tra Rosana Mayunas e Weili Zhang, valida per il titolo dei pesi pagli a femminili, quindi 115 libri. E il match, che è stato un match molto molto tattico, è stato vinto per split decision da Rosana Mayunas. In un match che va detto è stato molto chiuso con round difficili da segnare. Va detto che la zagna in fase di striking è sembrata meno precisa del solito, mentre invece ha fatto grandi miglioramenti nella fase di grappling. Probabilmente grazie anche all'aiuto di Triple C e Henry Seudo. La Mayunas ha continuato per 5 round a mantenere un ottimo ritmo, un ottimo footwork. In piedi, a mio parere, è stata più precisa della fighta cinese. Nel quarto e nel quinto round la Mayunas si è affidata al suo grappling per portare a terra la sfidante. Ci è riuscita con maggior successo nel quinto round, che probabilmente è stato il round decisivo e che ha visto appunto la Mayunas portare a casa il match, portando a terra la Zhang, controllandola senza comunque andare a infliggere un ground in pound che potesse mandare KO Zhang. Quindi è stata comunque una vittoria meritata, ma in fin dei conti. Un giudice ha dato un 18, probabilmente nel quinto round. Sebbene il 18 lo darei personalmente in casi in cui c'è un knockdown, c'è comunque un dominio devastante. La Mayunas ha portato a terra, Willy Zhang l'ha tenuta a terra, ma come nel caso detto poc'anzi, non ha fatto un grand in pound di quelli che potevano portare a una finalizzazione. Quindi la Mayunas vince e adesso siamo tutti curiosi di capire chi sarà la prossima sfidante, probabilmente Marina Rodriguez. Arriviamo ora al match che mediaticamente era quello più aspettato, quello più sentito. Perché a condividere l'ottagono della UFC, del Madison Square Garden, c'erano due fighters che si odiano. Probabilmente si stimano da un punto di vista tecnico, ma che comunque non vanno d'accordo. E anche la press conference avvenuta nella fight week ha evidenziato comunque quanto i due non si vogliano bene. Kamaru Usman e Colby Covington tornano nell'ottagono a due anni di distanza da quella UFC 245 che vide vissere da Nigerian Nightmare per KO al quinto round. Da quel momento sono passati due anni e Usman ha difeso il titolo altre volte, due volte contro Masvidal e una volta contro Burns, sempre con successo. Covington invece ha vinto contro Tyron Woodley. Il match è stato un match molto, molto equilibrato. È stato un match che ha comunque denotato il grande cuore, i miglioramenti comunque di Colby Covington che nel secondo round è stato mandato knockdown due volte da Kamaru Usman con due ganci a stretto giro. Covington nonostante tutto ha resistito e paradossalmente dopo quei due knockdown si è svegliato ulteriormente e ha messo anche in grande difficoltà Usman con delle combinazioni ed un ottimo volume di colpi che in certi momenti ha messo in difficoltà la Nigerian Nightmare. Ciò nonostante i giudici hanno premiato Usman con due 48-47 e un 49-46 che sono appunto andati a premiare il fighter nigeriano alla sua quinta difesa titolata. Covington ha provato in tutti i modi, ha provato anche a portare a terra Usman che comunque ha fatto vedere per l'ennesima volta la sua immacolata takedown defense. Covington ha cercato in altri modi, percorrendo quindi la via dello striking, per mettere in difficoltà Usman. Usman è stato messo in difficoltà ma relativamente, paradossalmente è andato più in difficoltà con quel colpo che subì da Gilbert Burns agli UC 258. Ciò nonostante Covington ha dimostrato di essere al momento l'unica reale minaccia per Kamaru Usman, in attesa di capire se Kamzacimayev possa definirsi un hype reale e una reale minaccia per Usman. Termina qui il racconto di UC 268, Mir Corlato vi augura buona domenica, ciao!